Ciao a tutti! Leggiamo il preambolo di un libro molto famoso. Il libro è Il Decameron di Giovanni Boccaccio. Questa storia inizia a Firenze, una bella e famosa città della Toscana, in Italia, nel 1348. Il 1348 è un anno molto triste. Una malattia molto pericolosa, la peste, uccide tante persone e porta morte e distruzione. In un grigio e piovoso mattino del 1348, sette ragazze sono nella chiesa di Santa Maria Novella. Le ragazze non si conoscono, non sono amiche, ma sono tutte tristi e preoccupate per la peste. Cominciano a parlare e fanno tutte questa domanda. Come possiamo salvarci dalla peste? mie care, dice Pampinea, una ragazza molto intelligente, dobbiamo andare via da Firenze. Così solo possiamo salvarci. Hai ragione Pampinea, qui muoiono tutti, risponde Filomena. Ma dove possiamo andare? chiede Emilia. Andiamo nella mia casa di campagna, lontano da Firenze, propone Pampinea. Stiamo lì per due settimane e possiamo giocare, cantare, suonare e raccontare storie. Ma è pericoloso viaggiare da sole, dice Elissa. In questa chiesa ci sono tre buoni giovani. Chiediamo a questi giovani di venire con noi e di difenderci, propone Pampinea. I tre giovani si chiamano Panfilo, Filostrato e Dioneo. Sono ragazzi buoni e gentili. Ascoltano la proposta di Pampinea e accettano di difendere le ragazze. Anche loro vogliono salvarsi dalla peste. Il giorno dopo, i giovani e alcuni servitori lasciano Firenze e arrivano nella bella casa di campagna di Pampinea. Sono tutti molto felici, Firenze è lontana e la peste non fa più paura. Ma come possono passare il tempo? Pampinea propone Raccontiamo delle storie. Oggi decido io l'argomento. Poi domani uno di noi decide un argomento diverso. Così tutti i giorni possiamo ascoltare delle novelle, cioè delle storie belle su argomenti diversi. Tutti accettano felici.